amici bentornati sul mio canale io sono grace oggi continuiamo la nostra avventura con il fantastico gioco di rise on of wrong dunque proseguiamo e vediamo subito cosa ci si prespetta oggi e quanti babbari andremo ad ammazzare aspetta scendi scendi giù ci sono le lance non continuare a picchiettare altro da raccattare questo è morto intanto che prendeva il sole ok proseguiamo uccidere c'è libero il passaggio per i tuoi uomini ok allora vediamo un po di mirare la direi un po di mirare Non ricordarmi! Sono sempre io! Inventi contro di me e gli altri che stanno a guardare! Volevo un attimo vedere il potenziamento, alcuni ragazzi li ho fatti senza starvi a farvi vedere a voi cosa avevo potenziato, comunque questi qui sono i risultati. Abbiamo un 12.000 però non riusciamo a comprare altro, cioè a aumentare altro. Ok proseguiamo. Sembra un film ragazzi, la grafica è spettacolare. 3 Oswald! Votate! Come osate stare qui! Profanate questo tempio con la vostra presenza! Guardie! Spendateli! Un allevoli! Un allevoli! Un allevoli! Un allevoli! Un allevoli! Un allevoli! Questo vizio di tenere le spalle le persone. bene Signore, la linea è chiesto, ma dobbiamo spregarsi. Concediamolo! Quanti sono? Quanti sono? Quanti sono? Ok, ci sono 3 Ok, ci sono dei caduti Ah, ecco Con così poca energia Ah, ecco Ah, ecco Ah, ecco Ah 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 Arrediti O eliminerò la tua progenie Ora Basta Mamma mia ragazza Non è proprio brutta È brutta e forte la figlia del re babbaro Potremmo farla almeno un po' più Neanche che abbiamo decente Ah 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 Per gli dèi Noi luttiamo per la gloria di Roma Che gloria è questa? I britanni non accetteranno la pace se li trattiamo così Questa è opera dei pretoriani Amici di Roma Vi presento Basilius Figlio dell'imperatore Mio Dio Comandante Viteglio Mi rallegro per la vostra venuta Mio Dio Per poco non vi siete perso Tutto il gaudio di questa festa Confido che il vostro viaggio sia stato piacevole Signore vorrei Guardie prenderà il comando Guardie Occupatevi dei britanni Vostra altezza devo pulire Forse non lo sapete Mio fratello Commodo E' ancora disperso E io intendo scoprire Che cosa ne hanno fatto questi selvaggi Noi britanni vivevamo in pace governati dal vecchio capitano romano Ma il nuovo condottiero Commodo Figlio del vostro re E' malvagio e merita il suo destino Non ho altro da dire Mi è chiaro ora che voi britanni non amate come noi romani Tua figlia? E' davvero incantevole Picchiala finchè non parla o la faccio l'amore Non importa Nooo Com'è com'è? Ti permetti? Come ti permetti? Questo è fuori Questo è fuori E io posso tutto ciò che voglio Vi prego No! Non uccidetela! Vi dirò ogni cosa! Comodo è stato ceduto il Re Bicorne nelle lande settentrionali Al di là del vallo Vi prego Lasciate mia figlia Vi prego Vedete? C'è un solo linguaggio che questa gente comprende Il linguaggio della vioenza Troverete il condottiero nelle tenebre oltre il vallo Dove cube e brulle scarpate sovrastano laghi oscuri e senza fondo Dove uomini dalle lunghe corna errano da tempi remoti E dove coloro che si avventurano Non fanno ritorno Ah, entusiasmante Comandante Condorrete i vostri uomini a nord Alle brulle scarpate E troverete mio fratello Guardie Rinchiodete i prigionieri Preparatevi Sentito il comandante Pronti a marciare Centurione Andiamo a nord D'accordo Vitalio ci ha condotti a Settentrione Oltre i limiti dell'impero e i confini del mondo Abbiamo affrontato guerrieri più simili a bestie che a uomini Così terribili da piegare persino le legioni scelte di Roma Le parole di Oswald ci tormentavano mentre proseguivamo nell'implacabile oscurità Nelle lande battute dagli uomini dalle lunghe corna Da dove solo pochi fanno ritorno Questo forte Il fosso di glotto Si dice sia niente meno che il barco perlare Luogo di fiamme e morte Credo che ciò che accade qui ai confini del mondo Presto lampirà l'impero stesso Ingegneri Lavate il pellame Antonio controlla i cavi Otto assicura le sballe Ci muoviamo alla decima ora Si signore Ok amici Io direi che il settimo episodio della serie di Riles finisce qui Spero che la nostra avventura vi stia piacendo Nel caso se non siete iscritti al canale Iscrivetevi Se vi è piaciuto il filmato lasciate un bel like Commentate e condiviate sui vostri social network Grazie per avermi seguito Ci vediamo con il prossimo gameplay Un saluto a tutti da GraceGamer78 Grazie a tutti